Chiediamo la modifica della legge di stabilità su questo punto specifico, quando è stata approvata dal centrodestra la cancellazione sostanzialmente del borsacchio. Noi oggi in prima e quinta commissione presentiamo un emendamento specifico per tornare alla situazione precedente e poi abbiamo già presentato un progetto di legge specifico affinché in commissione e poi in aula si possa tornare indietro. Ci sono i tempi e verifichiamo oggi stesso se Marsilio, Febbo e gli altri hanno la voglia e soprattutto la determinazione per tornare indietro e soprattutto discutere, approfondire il tema con il territorio a cominciare dal comune di Roseto che si è espresso con una delibera all'unanimità nel chiedere alla regione Abruzzo di tornare alla situazione precedente.